In una competizione di questo livello la prima partita è sempre una grande emozione. Per gli spettatori, per noi addetti ai lavori, ma soprattutto per i giocatori che difendono i colori del proprio paese. Signore e signore, iniziano gli europei. E l'attesa è finita. Con questo match si apre la fase a gironi del torneo. Ora sì che si fa sul serio. Tutti in piedi, godiamoci gli inni nazionali. Grazie a tutti. E con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Grazie a tutti. Eccoci, si comincia. Continua ad appazzare verso l'aria. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta. Il difensore però non ha boccato. Buona azione sulla destra. Vediamo come evolve. Bell'intervento di Pezzino. Johnny Evans. La Polonia non brilla per capacità di possesso di palla in questa occasione. Occhio altra persona. Lewandowski. E c'è il gol della Polonia. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Prova il filtrando. Lewandowski. Tiro da dimenticare. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Palla profonda a cercare lo spazio. Intercetta e sbroglio una situazione che si faceva molto pericolosa. Anche sfortunato perché il pallone finisce alto di pochissimo. Ma ha sbagliato comunque. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Non è andato lottando dalla rete. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Passaggio in avanti. Lewandowski. C'è Blasikowski. Cross di Blasikowski. Ottimo l'intervento che allontana. Il portiere è la calcia lontana. Bell'anticipo. Pericolo sventato. Blasikowski. Si lancia in un'azione personale sulla faccia destra. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Prova il cross in aria. Ottimo intervento di copertura. Tiro. Cricciovia non ha avuto nessuna esitazione. Ha visto uno spiraglio e ha deciso di calciare. Anche se la distanza era proibitiva. Niente da fare. Niente da fare. Niente da fare. Non passa. L'appoggio sulla fascia. Blasikowski. Occhio al cross. Mette fuori il pallone. Piszczek. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. La Polonia deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol. Oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a difendersi. Sarebbe troppo rischioso. Colpo di testa. Prova la soluzione in profondità. Tega il feroce. Prova a verticalizzare. Cerca ancora una palla profonda. E trova bene il compagno. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Palla intercettata. Può calciare a Grete. Prova ancora. Il pallone è dentro. Questa adesso è una serie a ipoteca sulla partita. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione. Ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto. Ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Eccolo qui. È arrivato il momento del cambio. 2-0 dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. C'è la verticalizzazione. Prova la giocata nello spazio. Cerca spazio. Allontana il pallone. L'arbitro lo chiama cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio. Bravo. Ancora un ottimo intervento difensivo. Il corner. Ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Ottimo disimpegno. Fondamentale. Scivolata. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Vuole la profondità. Cerca una azione veloce. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. L'avversario non ha fatto buona guardia. E forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Palla profonda a cercare lo spazio. E il portiere controlla senza problemi. Ottimo intervento di copertura. Cerca spazio. Lewandowski. Grande tackle. Lewandowski. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Ci è mancato poco per trovare ancora il contrasto irregolare. Dunque calcio di punizione. Occhio al lancio lungo. Intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa. Tocco prudente al portiere. Lancio lungo del portiere. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Grande inizio. Arrivano i primi tre punti della stagione. Una bella vittoria. Una prestazione molto confortante. Non c'è modo migliore di iniziare una competizione come questa che con una vittoria. Da adesso in poi non so... Grazie a tutti.